Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dedicato alle auto. Come sapete ho creato questo format One Months One Car e oggi iniziano i 30 giorni con la prossima macchina. Siamo a Modugno, vicino Bari, e sono da Maldarizzi per ritirare la macchina. Ma andiamo. Allora, abbiamo appena finito la parte burocratica che voi non vedrete mai, nei video, però l'abbè appena finita, adesso mi deriva invitando le chiavi e ci spiegherò la macchina. E magari ci offrono anche un caffè, ma piccolo che piccolo. La prossima volta voglio una macchina coperta e la devo scoprire. Avrete capito che la macchina in questione è la nuova BMW Serie 1. E siccome nelle storie vi avevo chiesto di indovinare questa cosa e qualcuno di voi ha indovinato, tra l'altro ho lasciato due indizi esagerati, lo spoilerino frontale e la musica di Gali, che è la musica dello spot che sta andando in onda, quindi insomma, non era difficile da indovinare, però tutti quelli che hanno indovinato faremo una giornata per chi starà in Puglia, una giornata, non esageriamo, un paio d'ore di test drive con me. Allora, vi prometto che un giorno faremo un video così, ve lo giuro. Allora, partiamo dall'infotainment. Potete utilizzare direttamente Spotify all'interno della vettura, quindi andare a scansionare il QR code e avere sempre l'applicazione disponibile. Abbiamo le modalità di guida che sono Sport, Comfort ed Eco Pro, potete scoprirla direttamente da... Ok, ma tanto, non saremo sicuramente una sola che ha lo Sport. Illuminazione interna? Ce l'ha questa? Siamo subito, ci stavamo arrivando. È un bel coperposo. Ah, ok, 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 ok. Abbiamo tutte le varie impostazioni, quindi parliamo di... Arriviamo subito all'illuminazione dell'abitamento, l'ambient light. Eccola. L'auto è dotata di ambient light completo, quindi parliamo di una scelta abbastanza ampia di colori, bronzo, arancione, bianco, blu, verde, lil e lilla. Ok, immagino che cambiando la modalità di guida cambia anche il... Cambia il display. L'auto è dotata di un avviso di collisione frontale anticipato, di abbandono di corsia che implica anche l'intervento sterzante e l'avviso di cambio di corsia. Ok, io ti ringrazio. Io ringrazio te. E ci vediamo. Buon divertimento. Grazie, ciao ciao. Allora, ho fatto il primo pieno, 60 euro... Fammi vedere un po' di cazzate. 60,18 euro, 41 litri di gasolio. Quindi vediamo poi quanti chilometri ci facciamo. Adesso mi dice 800 chilometri di autonomia. Non è affatto male. Madanna non saranno bene. Ovviamente seguitemi nelle storie, perché è lì che poi giornalmente faccio vedere un po' tutto quello che è la macchina. E ci vediamo quindi su Instagram, ci vediamo su Facebook, seguite anche il profilo Instagram e Facebook di Madaliz, vi lascio qua sotto i riferimenti. e ci vediamo alla seconda puntata. No, allargali un po' di più, perché secondo me... stronzi. Ci vediamo quindi alla seconda puntata, dove ci sarà mia moglie. Quindi avremo l'esperienza di guida di una donna. Alla prossima. Ciao.